Ciao a tutti, carissimi, eccoci qui prontissimi su Pausa Caffè, edizione live, dove c'è qualcuno che ci mette la faccia e parliamo del grande fratello VIP, perché c'è Ginevra Lamborghini, stavolta è lei che sta facendo parlare di sé. Allora, nel mese di settembre la sorella di Elettra Lamborghini sappiamo che è entrata nella casa, ma la sua esperienza nel reality show è durato veramente come un gatto in tangenziale, poco, 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 poco. La concorrente è stata squalificata per una frase contro Marco Bellavia, parliamo degli albori del programma, è stato subito detto, merita di essere bullizzato uno come lui. Questa è stata proprio la frase della sorella di Elettra Lamborghini, e alla luce del fatto che aveva toccato una delle piaghe sociali, Alfonso Signorini e tutta la produzione dietro, avevano proceduto con il provvedimento più duro, più, diciamo, esemplare, cioè la squalifica. Nonostante tutto, nel corso di questi mesi la VIPona è stata invitata in studio per una settimana ed è rientrata nella casa, sì, ok che è rientrata ma in qualità di ospite, quindi veste totalmente diversa rispetto a prima. Ovviamente il ritorno alla casa aveva creato non poche polemiche e a criticare la scelta di Alfonso Signorini e della produzione era stata una fetta del pubblico e molti concorrenti squalificati, proprio nelle varie edizioni del reality show, che hanno rosicato, hanno detto, oh, ma noi col cavolo che ci hanno fatto entrare, quella sì, a noi no, e quindi insomma capiamo anche le lamentele delle persone, no? E tutto questo clamore ha messo in risalto però Ginevra, perché la sorella di Elettra è spesso nei trend topic di Twitter e continua a far parlare di sé per la sua amicizia con Antonino Spinalbese, cioè l'ex fidanzato di Belen che si trova attualmente nella casa. Ora, la figlia di Tonino Lamborghini ha un altro obiettivo e a darne notizia è il sito San Marino RTV, che non si è mai sentito, però c'è. L'ex concorrente del Grande Fratello quindi parteciperà a Una Voce per San Marino, il talent organizzato da San Marino RTV, Media Evolution e Segreteria di Stato al Turismo per scegliere il rappresentante del titano all'Eurovision, Son. Contest. Ginevra Lamborghini, che ha annunciato la notizia con un Instagram Stories, l'ha lanciata lì, si aggiunge ai partecipanti alle selezioni, così come Lorenzo Licitra. Oh, Lorenzo Licitra, ma che fine aveva fatto? Che sì, infatti, aveva... ce lo siamo dimenticati da X-Factor 2017 contro i Maneskin. In quell'occasione aveva vinto Licitra. Al contest parteciparono oltre mille artisti da 31 paesi e tra questi c'è anche la sorella di Ginevra, Elettra Lamborghini. Questo, cari amici, è tutto. Vi ringrazio per il vostro graditissimo ascolto. Noi ci sentiamo alla prossima. Mi raccomando, pollice in su e buona giornata a tutti.